Bene, grazie. Così? Beh, insomma, bene personalmente, il paese non benissimo. Mi hanno colpito da ultimo i dati sulla povertà assoluta che è cresciuta in modo esponenziale in questi mesi dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza. Quando si racconta di un'Italia dove siccome crescono i posti di lavoro i problemi sono risolti, forse andrebbe integrata con questa notazione ulteriore. Aumentano i posti di lavoro, ma nonostante aumentino i posti di lavoro la gente è più povera. Quindi ci sono più poveri adesso che nel 2014, quando c'erano meno occupati. E allora ci vorrebbero dei soldi da dare alle persone che non ce la fanno. Ma l'unico che continua a dirci è che i soldi non ci sono, mi sembra il ministro Giorgetti. Sembra l'ultimo giapponese rimasto a dire che c'è un problema. Credo che Giorgetti richiami a un punto di realtà. E poi però Giorgetti non dice che i soldi non ci sono perché a mio avviso non si fa con tutta la necessaria forza una lotta all'evasione fiscale, anzi si fanno dei condoni e contemporaneamente non si tassano grandi profitti che si sono realizzati in questi anni e che in questo momento potrebbero dare un po' di sollievo all'economia. A chi sta peggio? Le banche hanno realizzato 60 miliardi di utili più dell'anno scorso con una crescita quasi raddoppiata degli utili. I player energetici hanno fatto utili record. Quindi lì si potrebbe chiedere un contributo. Si potrebbe chiedere un contributo ai soggetti che a causa delle crisi che si sono determinate hanno avuto un vantaggio abbastanza sproporzionato. Nel frattempo ieri abbiamo visto uno strano film chiedo a lei di aiutarmi a capire che film abbiamo visto quello sul superbonus c'era la commissione che doveva votare ad un certo punto sembrava ci dovesse essere lo spostamento di un commissario da altra commissione per garantire il risultato del voto ho capito bene poi è intervenuto la russa ha detto che non si poteva fare e poi soprattutto sono arrivati i voti di Italia Viva a sostenere la posizione di Giorgetti sul superbonus mentre Forza Italia si è astenuta. Mi dica se ho sbagliato qualcosa. È così, è così. E questo piccolo passaggio abbastanza forse marginale nella dinamica generale però politicamente spiega una cosa che quando sentite un esponente del centrodestra che dice che il superbonus è colpa di Conte che l'ha ideato è colpa del centrosinistra che l'ha sostenuto dice una cosa non vera perché il superbonus è un'idea più o meno giusta che sicuramente è nata nel Conte 2 ma che è stata implementata, difesa, estesa praticamente da tutti compresi gli esponenti del centrodestra e che a questo punto però verrà invece che in 4-5 anni verrà spalmato su 10. Sì, questo mi sembra l'orientamento ma io credo che bisognerebbe fare una discussione seria ricostruendo le responsabilità e capendo anche come se ne esce Giorgetti dice giustamente qual è la via d'uscita però bisognerebbe che tutte le forze politiche si assumessero anche la loro quota di responsabilità La porto in Liguria è un'idea più